La storia che vi racconto oggi comincia da tre immagini. Queste tre immagini hanno qualcosa in comune. Le direzioni del paese di Ciro, che è la città del vino. Un'immagine del calendario gregoriano, che è il calendario che quasi tutto il mondo utilizza, inclusi noi, è stato introdotto nel 1582 dal Papa Gregorio. In questo calendario si introduceva un ritardo di dieci giorni, si toglieva un ritardo di dieci giorni rispetto al calendario precedente, il calendario giuliano. La terza immagine è questo parco, un parco astronomico che si trova a Savelli, in provincia di Crotone, K.R. Cosa hanno in comune queste tre immagini? Uno scienziato calabrese, medico, matematico, astronomo, Luigi Liglio. Lui è stato l'ideatore del nostro calendario, calendario gregoriano. In pochi lo sanno. È una storia molto misteriosa, molto affascinante, che uno studioso, direttore di un istituto di ricerca in chimica, che si trova a Firenze, del CNR, si chiama Francesco Vizza, lo sta studiando da alcuni anni, per portare alla luce questa storia misteriosa. Luigi Liglio è nato a Ciro nel 1510, è stato l'ideatore del calendario gregoriano, che porta il nome del Papa che ha voluto questa riforma, semplicemente per mettere d'accordo le feste religiose con il calendario solare. Il parco astronomico di Savelli è intitolato a lui. Quindi è una storia, questa, veramente bella, secondo me, perché mette insieme il passato, il presente e il futuro dell'astronomia in Calabria. E inizia appunto da Luigi Liglio. Luigi Liglio ha lavorato al calendario quando Gregorio decide di lavorare a una riforma del calendario, perché, diciamo, necessità religiose. Cosa vuol dire 13 minuti? Ah, mi mancano 13 minuti, scusate, sto guardando il time. Questa è un'immagine di archivio che si trova a Siena, pubblicata in uno dei lavori di Francesco Vizza. Vedete il Papa a sinistra, davanti a una commissione di scienziati e religiosi che si mettono insieme e che lavorano per alcuni anni per trovare la soluzione giusta per avere un calendario che funzionasse nel tempo, per millenni, per milioni di anni. In queste immagini vedete un personaggio che tiene una bacchetta e indica le costellazioni e l'oroscopo. È forse il presidente della commissione, un religioso matematico che si chiama Tedesco, un gesuita, Cristoforo e Clavio. O forse è il fratello di Luigi Lilio, perché Luigi è già morto, però ha lavorato a questo progetto scientifico, lo ha risolto e lo ha affidato ad Antonio, suo fratello, che lo porta davanti alla commissione scientifica, davanti al Papa. Quindi è una storia un pochino misteriosa, però il lavoro di Luigi Lilio viene riconosciuto in alcuni scritti, per esempio quello di Cristoforo e Clavio, che nel 1603 scrive, e magari fosse ancora vivo, Aloysius Lilius, che è il nome latino di Luigi Lilio, di Ciro, uomo più che degno di immortalità, che fu il principale autore di una correzione tanto valida e risplendente sugli altri grazie alle cose da lui scoperte. Un lavoro veramente meticoloso, molto importante, che poi adesso, oggi, in pochi sanno. Non sanno che è stato un calabrese che ha fatto questa riforma del calendario. Quello è stato un'epoca d'oro per la scienza calabrese. Non c'è stato solamente Luigi Lilio. Ci sono stati anche altri astronomi calabresi, per esempio Giovan Battista Amico, nato a Cosenza e morto a Padova, oppure Paolo Antonio Foscarini, un altro scienziato, monaco, frate, che adottò la rivoluzione copernicana, la diffuse nei suoi scritti, censurati dalla Chiesa, perseguitato, se volete, processato, morto prima che finisse in galera. Invece Giovan Battista Amico è stato anche lui uno di quelli che ha adottato la dottrina di Copernico, quella che è stata fondata in quell'epoca lì, in cui vedeva non più la Terra e l'essere umano al centro dell'universo, ma spostava il centro verso il Sole, qualcosa che era esterno alla visione umanocentrica dell'universo. E oggi Giovan Battista Amico viene celebrato grazie alla fondazione di questo planetario che si trova qui a Cosenza. Invece, per esempio, ci sono stati altri personaggi famosi, filosofi, tipo Bernardino Telesio, oppure Tommaso Campanella, Calabrese anche loro, che hanno introdotto, soprattutto Telesio, hanno creato le fondazioni, le radici di quello che poi sarebbe stato il pensiero scientifico che oggi ancora utilizziamo e che ha cambiato la cultura dell'intera umanità. Tommaso Campanella, anche lui, ha patito la persecuzione religiosa per le sue idee, era stato considerato un eretico per le sue idee, perché era un religioso. E quindi oggi possiamo vedere, ammirare questo planetario qui a Cosenza, è evoluto da un altro scienziato calabrese che si chiama Franco Piperno, un fisico che ha lavorato all'Università della Calabria. E questo planetario, che è stato inaugurato pochi mesi fa, è tra i planetari più grandi e tecnologicamente più avanzati d'Italia. Il parco astronomico che si trova in Sila, che porta il nome di Luigi Lilio, ospita questo telescopio di 50 centimetri, uno dei più grandi del Sud Italia, che è dedicato alla divulgazione scientifica. ed è stato voluto da un altro scienziato calabrese, nato a Savelli, che si chiama Filippo Frontera, professore di fisica all'Università di Ferrara. In questa immagine lo vedete premiato per un premio importante che si chiama, dedicato a Enrico Fermi, del 2010. Un premio internazionale che viene organizzato dalla Società Italiana di Fisica. Lui è nativo di Savelli, ha voluto questo progetto, l'ha realizzato, e oggi fa non solamente divulgazione scientifica, ma fa anche, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, anche scienze interessanti. Vi faccio vedere alcune immagini. Stiamo lavorando in collaborazione con i gestori, con gli organizzatori scientifici del telescopio, che si chiamano Antonino Ebrosio e Antonella Tripodi. E questa è un'immagine di una galassia a spirale. Vicino c'è una piccola compagna. È simile alla nostra galassia, non abbiamo una compagna così grande, ma ce ne sono tante altre di piccole galassie che ci girano intorno. Questa galassia si chiama Galassia Vortice e si trova a una distanza di 23 milioni di anni luce. Questa immagine è fatta al telescopio di Savelli, è arrivata qui, in questi giorni, dopo un viaggio durato 23 milioni di anni. È un pochino sfocata perché il telescopio è piccolino, rispetto ad altri telescopi importanti, come questo. Questo è il telescopio spaziale Hubble, è il telescopio più famoso nella storia dell'umanità, lanciato nel 1990 in orbita e ancora oggi lavora per darci delle immagini bellissime. Adesso quindi collaboriamo con i responsabili scientifici del telescopio, quindi Antonino e Antonella, e facciamo delle immagini importanti scientificamente che possiamo interpretare. E siamo in collaborazione insieme per cercare la parte ottica delle sorgenti di onde gravitazionali. Questo telescopio è coinvolto in un progetto internazionale. Questa è un'immagine, diciamo, una galassia piuttosto vicina, solamente 23 milioni di anni luce. È un'immagine un pochino più recente, è questa, non esattamente questa, questa è un'altra galassia spirale, è un'immagine d'archivio fatta da un telescopio che si trova negli Stati Uniti. È una galassia spirale, somiglia anche questa alla nostra. Qualche mese fa, allora questa è una galassia che si trova a 387 milioni di anni luce di distanza. È un'immagine che ha viaggiato quasi 400 milioni di anni. Nel marzo del 2019 questa galassia, vista dal telescopio di Savelli, ha ospitato l'esplosione di una stella che il nostro telescopio è riuscito a vedere. Vediamo se riuscite a avvertire dove si trova. Questa è l'immagine di un telescopio più grande, questa è l'immagine del telescopio in Sila. La stella che è scoppiata la vedete indicata dalla freccia. Si tratta di una supernova, stelle molto grandi che a un certo punto non resistono alla forza di gravità ed esplodono. Ed è stata osservata dal nostro telescopio. Quindi stiamo facendo delle cose interessanti qui in Calabria adesso, ma abbiamo progetti più grandi per il futuro. Vi faccio vedere una cosa interessante che in pochi sanno. Questa cartina dell'Italia con la barra in basso che vi indica la parte scura, la popolazione più grande, la parte chiara, la popolazione più piccola, indica non la criminalità, gli criminali che ci sono sparsi per l'Italia, ma indica la partecipazione di studenti delle scuole superiori a un evento internazionale che si chiama Olimpiadi di Astronomia. Qui sono gli studenti che hanno partecipato alla selezione nazionale e la Calabria è quella che ha presentato più studenti in assoluto, ma molti di più delle altre regioni. Per esempio, se confrontiamo con la Lombardia, la Lombardia ha avuto 228 studenti per la selezione nazionale, la Calabria 2487, dieci volte di più. Un fatto straordinario che pochi conoscono e che nessuno riesce veramente a spiegarsi e dei 15 finalisti che hanno partecipato alle gare internazionali, dieci sono della provincia di Reggio Calabria e questi studenti si sono comportati benissimo raggiungendo risultati importanti e non è un fatto di quell'anno del 2018, il 2017 ha avuto più o meno risultati simili e in questi ultimi anni la Calabria produce un grandissimo numero di studenti delle scuole superiori che si comportano benissimo alle gare dedicate alle Olimpiadi di Estronomia. E perché questo? Perché ci sono grandi giovani, grandi scuole, grandi insegnanti, ma anche e soprattutto per un lavoro di una professoressa delle scuole superiori che si chiama Angela Misiano di Reggio Calabria. La vedete qui in un'immagine insieme a degli studenti un pochino piccoli rispetto a quelli che lei in genere prepara. E da anni lei prepara studenti delle scuole superiori per performare al meglio alle Olimpiadi di Astronomia anche grazie alla collaborazione e all'aiuto del Dipartimento di Fisica e dei colleghi. Quindi è una persona straordinaria che ha fatto veramente delle cose importanti non per la Calabria, sì per la Calabria sicuramente, ma per l'Italia e per l'estero perché tanti di questi suoi scienziati, questa è una protoscienziata, ancora non lo è veramente, queste persone viaggiano per il mondo e ci fanno ben comparire in istituti di ricerca importanti, realizzando delle cose straordinarie. Dobbiamo ringraziare persone come lei perché queste cose sono possibili. La storia che vi ho raccontato è quasi finita e vi concludo diciamo in un modo veramente positivo. Questa cartina dell'Italia vi mostra i 17 istituti che si occupano di ricerca in astrofisica coordinati dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, cioè dall'INAF. Ce ne sono 17 sparsi in tutta Italia, però potete notare una cosa, che il sud-est dell'Italia non è coperto, non ci sono istituti. Nonostante la Calabria faccia così tanto per la nazione e per i paesi dell'estero, in qualche modo non riesce ad essere riconosciuto da questo punto di vista con gli istituti che si occupano attivamente in maniera importante di ricerca in astrofisica, ma adesso ci siamo arrivati. È notizia di qualche mese fa che l'istituto, ci sarà un istituto dell'INAF all'Università della Calabria e di questo siamo veramente felici. E io sono sicura che se Luigi Liglio fosse vivo adesso sarebbe molto felice. grazie. Grazie. Grazie.